...e un'altra conferenza stampa e alle 20 atteso il nuovo collettivo... ...la necessità di ricavar... ...ehi! ...io resto a casa... ...e resto a casa in orizzontale... ...io resto a casa... ...io resto a casa... ...ehi Siri... ...la accendi! ...cosa devo dire? Da montatore video a montatore di sta roba, cioè... ...ed eccoci qui da Caserta... ...come vedete non... ...non sto per niente in ansia e l'ho presa benissimo... ...l'ho presa benissimo questa qua... ...oh Dio! ...la sagra! ...devo montare la sagra! ...che stai facendo? ...vo montando... ...scherzi a parte... ...per fortuna... ...ogni tanto posso fare qualche passeggiata perché... ...vivo in una zona praticamente... ...deserta... ...non l'ho dedicato! ...e il mio tempo lo sto trascorrendo... ...così... ...mi sto dedicando a progetti personali perché il lavoro scarseggia... ...spero che la situazione possa passare in fretta... ...eh questo è il mio gatto! Ammattiamo i bottoni a casa! La mia situazione si è ribaltata perché dallo stare a casa a lavorare... ...a fare il volontario in giro! Io resto a casa! Io resto a casa! Un saluto... ...olografico da Udine! Io resto a casa! Anche io Smart Working ho gli ultimi due diciottesimi da completare... ...ma continuo a lavorare anche come doppiatore pubblicitario... ...e io resto a casa! Visto che in questi giorni ci vediamo costretti a dover cambiare le nostre abitudini... ...e che molti di voi dovranno lavorare in regime di Smart Working... Ecco qualche consiglio su come presentarsi al meglio davanti a una webcam! Un abbigliamento del genere, per esempio, è curato, non eccentrico e professionale! No! Il pigiama! Io resto a casa! Io sono a casa e adesso sto studiando per diventare un grande montatore video! Ciao raga! Buona quarantena! Intervallo serio! Che dire! Siamo italiani! Ci piace ironizzare su tutto ma qui la situazione è seria! Sono tante le domande! Le paure! Non dobbiamo mollare! Non dobbiamo scoraggiarci e usare l'unica arma che abbiamo attualmente a disposizione! Rimanere a casa! Ci sono tante cose che possiamo fare nel frattempo! Tipo... Rimanere a casa! Resto a casa! Per forza! Devo studiare il programma! Non ci capisco niente! Ciao ragazzi! Qui in Puglia si lavora a salti! Ciao! Anche io resto a casa e qui si montano video! Stai pazzetto! Stiamo guardando tanti bel film! Stiamo guardando tanti bel film! Tante belle serie! Sto lavorando tanto! Faccio yoga! Stiamo insieme! Marisa! Tu cosa vuoi dirci di questa quarantena? Mi voglia bene! Ce la potremo fare! E resteremo a casa insieme! Io resto a casa! Stavatevi! E non solo le mani! Cosa Wilson? Fate come me! Io resto a casa! Teniamo duro! Era stato a casa eh! Buona quarantena a tutti! Io resto a casa!